C'è palpitazione, c'è la Champions League a casa generale, ragazzi miei, i pronostici, quest'anno ancora, generale, si, si aggiunge un ospite, ma intanto andiamo con i pronostici, Milito, 2-1 per l'indice, vado anch'io prima, 1-1, porto a casa il pareggio, generale, la bocca della verità, il nostro gusto, pure io penso 1-1, un amore generale, andiamo anche a dire cosa, come sono? Scaricato World Football, come mai in generale? Perché tanto è gratis, siete aggiornati su tutto il mondo del calcio, ogni notificazione, sui lights della partita, vi potete aggiornatissimo il nostro, scaricato, il link è in descrizione, che è questo signore qua, partiamo, ciao, saluta anche gli amici, forza internet! Non mi piace, è il suo teletronista, lo tengo su posto, un po' di vicino, rigore, ma io non so, il dettaglio, il rigore, c'è nero, bello! Che scarogno giù! Buona, 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 buona! Chiara la via! Ciao, brava, guarda vedi, questo mi ha saluto la lega! E' un fecciana, in serie, porca puttana! Ma le screen! Ma lo scinti è! Uno giornata di campionati, in casa col Genro, sbloccare su un calcio di corner, scinti, che non dovresti inquadrare la borda! Bello l'atteggiamento per noi! però ci ha arravato una porta ci ha arravato belle che dai tira non mi piace, non mi piace ce l'ha detto ce l'ha detto ce l'ha detto un cazzo di fisco madonna questa era a portogallo no, quella è a portogallo ti ho appena detto vedi? è bucciuzza mamma mia ci ha arravato un pochino cosa stiamo stiamo buona si cosa devo parlo ma non cosa devo parlo no, come si è controllo non ha pigliato ma secondo me ah tu sei che hai cangiato la peruzione no 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 non dava nulla spaggione quindi hai fatto tutto hai girato il giro hai girato il giro già ha girato il giro hai girato il giro però se non ci vuoi da lì ma si quando girò tutto la scuola ti dico solamente veramente lo sai sempre stare hai visto non ho bisogno di calda che ci ha detto buona buona vettai mannaggia la miseria ma non ci è andata devi prendere tutto fatti già tre o quattro paratoio un cortone faccio l'angolo ma come stavo qui percato bene non ho detto gioco schioco io ho trato buone cazzo brozo vado io un bordo quella bella secondo me scrivi nero Non ci posso credi? Guarda il gioco Madonna il suo portierista, gli ha tutto No, non ha avuto apparello Screamer dopo, Screamer Giacomo Non ha scritto Si ha trovato l'auto la palla C'ha trovato troppo veloce Ci ha trovato la palla Era l'autario un po' il giorno Vediamo se l'auto No, non la fa bloccarci E' un bellone E' un po' buono Speriamo che non si stacca Da poco prima si è staccato 5 minuti Poi ripigliato all'occhio No, metà all'occhio no Ora non beccate a rai In questo stronzo E' un intervista caldo E' un po' troppo 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 e secondo me per il giacuzzini noi non aggiungiamo altro si stia perdendo il giacuzzini tira! ma meggia la mano! dice così e aggiungiamo altro si sta perdendo il giacuzzini e a mettere in mezzo questo farò che è di cui lui parecca e non so cos'è? e non so forse si domani conosci oh! cerca l'angolo apparello no anche lato il defensor ha chiesto la porta di tutto proprio si ma ti ero in superiorità oh! una fottana finisius bravissimo Skrider che defensore ragazzi che defensore dai dai avevano fatto terreno bravissimo nel recuperare fondamentale lascia l'annaccio mezzo e mezzo e mezzo vanverde finisius c'è una san francisco questo luogo non sta mandando un miracolo non ho provvedo attenzione il tiro c'è una san siro rodrigo a partire di San Siro a partire di San Siro diciamo come cazzo fai a perdere a perdere a perdere questo movimento e passaggio la sponda morbida in mezzo quello fai questo 5-6 occasioni no a lei certamente in debito d'ossigeno però questa è una posizione molto celebra che abbiamo visto ripetiamo il movimento di Camalinga la sponda e Rodrigo Rosso così la mano messa messa in un'alterna per Camalinga è ottimo poi pensiamo che alla conclusione di Rodrigo forse Dampres poteva leggere meglio quell'inserimento di Camalinga e stringere la posizione presunto a me non lo stufo 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 a me non se non si è ficcato a me non è cheортina PuriforPro Grazie.